Assessore, è un evento destinato a promuovere la città di Genova dal punto di vista turistico sia fra gli abitanti della Liguria sia fuori dai confini della regione? Sì, decisamente. Stiamo lavorando proprio per far sì che Paganini possa risultare un vero brand per la nostra città. Paganini è la nostra città, parla della nostra città, fa parlare della cultura, del saper fare anche di i genovesi. Stiamo lavorando molto quindi sia con un brand legato a far venire dei turisti della nostra città ma anche proprio a un brand commerciale. C'è fare sì che i negozi locali della nostra città parlino veramente la musica e il linguaggio di Paganini per far sì che anche l'accoglienza nella nostra città sia sempre più legata alle manifestazioni, agli eventi che vengono fatti in Stato. Per azione che si rafforza anche con l'iniziativa del Ducale di aver organizzato una mostra che accosta Hendrix a Paganini. Sicuramente sì e diciamo che fa da cestimolo proprio sulla curiosità e qualsiasi, ci ripeto, dei tanti genovesi che potranno finalmente anche scoprire quel Paganini sul quale in Genova forse per troppi anni si è fatta matrigna e per tutti quei visitatori che potranno finalmente vedere come la nostra città sa fare sistema, sa fare forza sulle qualità e su chi negli anni ha saputo rappresentarla. Grazie.